Mercoledì 9 ottobre 2019, Seven Sea Explorer, recente, ottime condizioni del mare, yacht in Rada e poi abbiamo Oceania Marina, due bellissime navi, l'una alla metà dell'altra ho l'Explorer con i suoi 700 passaggeri, l'Oceania Marina invece siamo sui 1200 passaggeri. I pescatori sempre amano la secca della principessa, traffico sostenuto anche a mare e le guardiamo queste due navi perché sono, pur essendo bandiere delle isole Marshall, pur essendo bandiere straniere, sono costruite a 6 Striponente l'una e nei cantieri Mariotti l'altra, cantieristica italiana. Il tempo è buono, il traffico aumenta a pista d'occio, vediamo tutta la serie dei battelli che carica i loro turisti e li porta in giro per Capri, Positano. a presto. a presto. a presti. a presto. a presto. a presto. Grazie a tutti.